Vincitore dell'Oscar per la migliore attrice non protagonista Perché non mi date il punteggio che merito? Non sei l'immagine che vogliamo per questo sport Io ti ho reso una campionessa Sapendo che mi avresti odiata Sono questi i sacrifici che fa una madre Ispirato a una storia incredibilmente vera È accaduto quello che state tutti aspettando che racconti Questo non era il piano Si è prestato questo al piano Margot Robbie è Tonya Harding Tutta la vita mi avevano detto che non avrei mai combinato niente Forse si sbagliava In prima visione Tonya, questa sera, 21 e 20, Rai 3